Musica Calano le temperature per la stagione e da qualche giorno è iniziata l'emergenza freddo. Caritas, diocesana in collaborazione con altre realtà cittadine, ha predisposto una serie di accoglienze straordinarie, in particolare iniziata nella parrocchia di San Giovanni Evangelista un'accoglienza alla gravissima marginalità. In questo periodo di emergenza non c'è solo il covid ma c'è il freddo che arriva e il freddo non guarda in faccia a nessuno e quindi Caritas ha pensato di mettere a disposizione un luogo per tutte quelle persone che non andavano in un dormitorio e che rimangono in stazione o lungo le strade o sotto un ponte e proprio nel periodo peggiore, cioè quello dove il freddo arriva ed è pungente e tra l'altro ci sono anche altre problematiche appunto legate al virus, era necessario trovare un posto caldo per passare le notti e poi lasciare a queste persone di nuovo la vita di strada. Cosa significa bassa marginalità per chi non c'era posto per loro nelle accoglienze classiche? Ci sono delle persone che possiamo definire irriducibili, che non accettano le regole da un dormitorio, che non accettano di andare in una struttura organizzata e preferirebbero la strada e quindi a questo punto si è deciso di mettere insieme in una rete più attori, quindi la Caritas da una parte che ha trovato la collaborazione nella parrocchia qui di San Giovanni Evangelista con l'unità di strada della comunità dei giovani, con la pulizia municipale, la pulizia di Verona e con la Ronda della Carità per far fronte anche a tutte queste persone che non vogliono accedere a un dormitorio. Il primo punto dello statuto è l'animazione della comunità, quindi una parrocchia come punto di accesso principale già quella era fondamentale e poi appunto proprio come Caritas l'idea di rete è quella che ci accompagna in tutti i progetti anche nelle altre accoglienze di questo periodo, per cui anche altri attori dall'ente pubblico ad altri attori anche dal punto di vista sociale. Una sera è capitato il direttore della Caritas, Monsignor Gino Zampieri, che ha avuto qui con San Giovanni Evangelista un'esperienza di curato di cinque anni quando è stato ordinato sacerdote. E ricordandosi un po' come sono gli ambienti di casa, perché lui li ha frequentati, li ha organizzati, si è presentato a chiedere, con un po' di sorpresa perché è una richiesta un po' grande, un po' strana, a chiedere un luogo per ospitare i senza fissa dimora. E così abbiamo riflettuto un attimo insieme sia sulla situazione di chi è fuori a dormire al freddo sia delle possibilità che le parrocchie hanno. Don Gino ha fatto presente che non sono molte le parrocchie che possono offrire degli spazi. Noi avevamo e abbiamo una sala che era il vecchio, l'ex teatrino parrocchiale, che ha un accesso all'esterno. Questo facilitava la possibilità di dare un locale che per noi è chiuso oggi, perché serve alle attività del noi, alle attività delle feste, dei compleanni, e attività varie. È una bella stanza ampia rispetto alle altre. Qui vicino abbiamo il campo sportivo con annessi spogliatoi, docce, bagni, che sono in uso al circolo noi. E d'accordo tra me e il presidente del circolo, Ennio, avevamo sia la stanza sia la possibilità di dare anche la possibilità di lavarsi e di stare al caldo. Quante persone hanno accesso qui in questi giorni e quante massimo potrete ospitarne? Allora, la stanza è stata addibita, arredata, secondo le regole della distanza. Attualmente sono una dozzina. Al limite possono arrivare anche a 15 posti. Attualmente sono presenti solo due persone ospitate, solo per il momento notturno. Poi di giorno la sala viene sanificata e gli ospiti vanno dove hanno i loro punti di riferimento. È sempre presente anche un operatore? Sì, la comunità giovani assicura con un operatore la presenza per qualsiasi cosa, sia per l'accoglienza, sia per dare qualcosa di caldo. Arrivano dei termos dalla Ronda, dal Samaritano. Ecco, e l'operatore veglia e vigila che tutto funzioni. Come è stata coinvolta la parrocchia? I parrocchiani hanno accettato questa proposta bella? Abbiamo condiviso e coinvolto il Consiglio Pastorale in questa scelta che subito è arrivata a me come proposta. Poi io l'ho passata al Consiglio Pastorale, abbiamo fatto un incontro con Don Gino per chiarirci, per sensibilizzarci anche su questo. A me la proposta è piaciuta, sia perché i nostri locali attualmente sono liberi, vuoti, ma è piaciuta pensando alla Casa della Carità. Una parrocchia è completa quando, oltre alla Casa della Preghiera, della Liturgia, alla Casa dei Giovani per le attività formative, ha anche la Casa della Carità. Noi abbiamo una San Vincenzo qui in loco, che opera e quindicinalmente prepara delle borse per una cinquantina e più di famiglie. Ecco, per cui pensare che la nostra struttura, una volta vuota, possa servire anche a chi è fuori a dormire al freddo, ecco, ha ampliato questa dimensione della Casa della Carità che nelle nostre parrocchie c'è, ma è nascosta perché non ha una struttura sua propria, a parte il magazzino e le sale della San Vincenzo o dei gruppi Caritas. E così, ecco, la Carità ha avuto un nome nuovo qui da noi, come non ci aspettavamo. La Caritas di Verona sta aprendo altre accoglienze in questo periodo, legate anche a chi è senza tetto e positivo al Covid. Ce ne sono altre tre, oltre a questa, legate proprio a questo periodo. Una è in via Corbella a Cadi David, che è aperto un anno fa e che è una struttura legata per i senza tetto che però hanno problemi di salute, non legati al Covid, problemi vari, problemi di salute. Ha una ventina di posti e anche quella è una collaborazione tra Caritas Comune e la comunità di giovani. Poi ci sono due strutture invece per ospiti senza tetto con la positività Covid ma sintomatici. Una è maschile ed è in un'ala di San Bernardino e una è femminile invece al Tempio Votivo. Anche qui si vede la rete con altri enti perché a Tempio Votivo c'è la comunità Santa Maddalena mentre a San Bernardino c'è la cooperativa Babel e quindi c'è questa rete con parrocchie, col territorio, con altre cooperative che ci permette di appunto dare il massimo ai nostri poveri. Chiaro, devo dirlo, che senza la Fondazione Cari Verona alle spalle forse non sarebbe stato possibile. Per fortuna appunto c'è stata anche questa collaborazione, queste risorse che ci hanno permesso di creare queste strutture. Ci sono tante persone per strada, tante ancora adesso per strada che non hanno ancora sfruttato questa accoglienza qui e tanti italiani che sono aumentati nei numeri anche se si guardano anche i centri di ascolto e gli empori di solidarietà di Caritas sono raddoppiati i numeri dei poveri che vanno a chiedere aiuto. Come la gente può starvi vicino? Come può aiutarvi? Chi ha la fortuna di avere un tetto, una casa o uno stipendio in questo momento? Chiaro che qualsiasi aiuto è buono dal punto di vista delle risorse, quindi economico o anche di materiale, quello non si rifiuta mai. È chiaro che il volontariato è una delle forme che più in questo momento è utile perché con il Covid tantissimi volontari storici che erano over 70 sono rimasti a casa un po' per paura, un po' per le attenzioni giuste da avere e quindi durante il primo lockdown abbiamo visto un grosso numero di giovani che ha iniziato a fare volontario e adesso la necessità di persone che ci diano una mano c'è e quindi questa è una delle cose. Poi è chiaro che anche il segnalare eventuali casi di persone viste per strada, trovate in giro per poter dare una mano, anche questa è una cosa importante. Torniamo a parlare con Don Antonio per chiedergli quanto è importante questa accoglienza alla gravissima marginalità come segno concreto di Dio misericordioso verso gli ultimi. La misericordia del Signore passa attraverso di noi anche nella scelta di dire cosa facciamo, cosa faremo la presenza di questo periodo di pandemia ci interroga molto e ci allontana. Ecco, questo passaggio di dare accoglienza noi l'abbiamo sentito e vissuto con chi abbiamo condiviso l'argomento come un modo, una domanda del Signore che ci interroga, ci interpella ad aprire le nostre case. Il Papa l'aveva già indicato circa cinque anni fa quando aveva invitato le parrocchie ad aprire ai profughi che avevano bisogno di trovare casa. E le parrocchie si sono mobilitate su questo aspetto. Ecco, anche noi oggi apriamo la casa chiusa che a noi al momento non serve, l'anno prossimo servirà per le attività formative normali e ce lo auguriamo ma intanto è spazio per i poveri.